Inizia la raccolta firme dedicata alla possibile ed auspicabile rimozione degli accumuli antropici di Posidonia sulle spiagge agropolesi della Marina del Porto e della spiaggia della Licina. Le varie associazioni che promuovono l'iniziativa chiedono all'amministrazione comunale di Agropoli l'adozione di atti per rimuovere tali accumuli e utilizzarli ai fini di ripascimento delle spiagge stesse. Gli accumuli antropici sono stati creati accantonando le foglie di Posidonia che ogni anno spiaggiano sulle coste agropolesi e occupano consistenti parti della spiaggia della Marina del Porto di Agropoli ma anche della spiaggia della Licina con un importante impatto sia dal punto di vista ambientale e paesaggistico sia di pubblica sicurezza e di igiene. Negli anni sono state ipotizzate svariate soluzioni per la rimozione di questi accumuli tra le quali il trasferimento in discarica come da qualificazione di rifiuto solido urbano ma secondo le normative vigenti si può invece procedere con il riutilizzo del materiale accumulato per il ripascimento delle spiagge. Infatti gli accumuli sono composti principalmente da preziosissima sabbia. Sono diverse le associazioni locali organizzate non che oggi chiedono di avviare un iter amministrativo per verificare la praticabilità di tale modalità di rimozione e riutilizzo delle masse. Pertanto hanno deciso di presentare tale proposta all'amministrazione comunale a mezzo petizione popolare così come concesso dallo statuto comunale dell'ente. Domenica 16 febbraio dalle ore 10 esse saranno in piazza Vittorio Veneto con un banchetto informativo per iniziare a raccogliere le firme di tutti i cittadini che vorranno sottoscriverla. Le associazioni e i comitati di cittadini che sostengono ad oggi la petizione sono in ordine alfabetico. Cilento possibile, cittadini 5 stelle Agropoli, comitato civico Il Faro e cooperativa Vivici Lento.